Si tornano le urne dopo l'unione dei comuni, quindi le chiediamo prima un'opinione su cosa può cambiare in vista di queste elezioni dopo questa fusione e anche una sua opinione su quanto è accaduto al referendum. Allora, con la fusione c'è una nuova comunità da creare, quindi saranno necessari sforzi, grande attenzione, è una progettualità concreta in modo che le risorse che devono arrivare dalla fusione sperando che arrivino, siano destinate a uno sviluppo generale e non particolare. E quindi grande attenzione a queste due comunità che anche se si conoscono e hanno condiviso alcuni servizi tipo i servizi alla persona sino adesso, però adesso devono diventare una sola comunità. Per quanto riguarda il referendum, la bassissima affluenza alle urne credo che sia il sintomo che i cittadini non hanno condiviso questa scelta, questa fusione. Tra l'altro poca affluenza e poi chi è andato a votare ha prevalso il sì per pochissimi voti, credo che sia evidente quello che i cittadini pensano, non erano d'accordo. D'altra parte, non erano d'accordo probabilmente, d'altra parte questa fusione porta a un comune che non è nemmeno di 3.500 abitanti. Quindi non è nemmeno sicuro che con la nuova proposta di legge del Partito Democratico che obbliga i comuni a un numero minimo di abitanti di 5.000, non si debba poi ritornare a breve a una nuova fusione. Forse alcuni cittadini o la maggioranza dei cittadini hanno pensato che era meglio aspettare un po' e fare una fusione con più comuni in modo da superare almeno i 10.000 abitanti. Un tema caldo di questo periodo è quello che riguarda la sicurezza. È un problema che esiste anche nel comune di Polesina e Zibello e quali sono le misure che eventualmente verranno messe in campo per migliorare la situazione? Il problema della sicurezza è un problema che esiste a Polesina e Zibello come in tutti i piccoli centri del territorio. Nonostante il pregevole assidio lavoro delle forze dell'ordine, diversi sono i furti nelle abitazioni. Quindi non si tratta di problemi di grande criminalità. Però è evidente che quando a un cittadino viene violata l'abitazione non si sente più al sicuro. Quindi il progetto Comune Sicuro è uno dei punti fondanti del nostro programma elettorale. Si parte con la promozione con Prefettura, Questura e Comando dei Carabinieri del patto per la sicurezza e quindi con misure che spaziano dal controllo del territorio le politiche di sicurezza pubblica con l'adesione al progetto di vicinato già approvato in diversi comuni risultati. Quindi accanto alle competenze esclusive delle forze dell'ordine ci sono iniziative e segnalazioni da parte dei cittadini. Però pensiamo di incrementare notevolmente i sistemi di sorveglianza con telecamere, le cosette telecamere intelligenti in luoghi strategici e nelle zone residenziali. Così come pensiamo a un servizio di vigilanza notturna, continuo, con società private specializzate e abbiamo intenzione di stipulare una polizia accumulativa per i cittadini oltre 65 anni per esercirli dai danni recati in caso di furti, truffe e raggiri. Alla fine troviamo in qualche modo un aiuto, anche se nel caso in cui poi dei danni da mancata sicurezza ci possano essere. Parliamo di welfare, quindi di servizi essenziali per i cittadini. Cosa può essere fatto per mantenerli e se possibile migliorarli, parlando di scuola, ambiente e sanità? Allora, per quanto sì, welfare naturalmente è il punto fondamentale, centrale del programma. Per quanto riguarda le famiglie prevediamo la diminuzione delle imposizioni fiscali e prevediamo di interventi immobiliari con social housing rivolte a giovani coppie. Prevediamo supporti alle famiglie che intendono mantenere al proprio domicilio le persone anziane anziché ricoverarli in istituto, così come costituire l'albo degli assistenti familiari con una verifica preventiva di competenze e requisiti. Per quanto riguarda la scuola abbiamo previsto di migliorare i servizi e anche migliorare il suo profilo economico, i servizi complementari del comune, quindi ad esempio il trasporto degli alunni e la mensa scolastica, anche se la mensa scolastica al comune di Zibello era già di una qualità molto elevata, tant'è che l'asilo di Pievottoville ha preso per vari anni il primo dieci elode dalla regione Emilia Romagna, proprio per la qualità della mensa. Noi abbiamo una cuoca che è una dipendente comunale e che ogni giorno i bambini fa i cappelletti, i tortelli di ricotta, dal culatello, la qualità è già alta. La porteremo anche in tutto il nuovo comune. Prevediamo per le scuole medie di fornire a ogni studente un computer incomodato d'uso gratuito, di agevolare i soggiorni di studio all'estero, di istituire delle borse di studio e per i bambini delle scuole elementari attrezzare un'aula didattica informatica perché prima c'era e poi negli ultimi anni è stata dismessa. Per quanto riguarda l'ambiente promuoveremo dei sistemi di incentivazione e di risparmio energetico. Già nel mio ultimo mandato avevo portato avanti un progetto di riqualificazione dell'illuminazione pubblica a Zibello con sistemi di risparmio energetico. Così come grande attenzione all'igiene pubblica, con convenzioni anche con le guardie ecologiche, la riqualificazione delle aree lungo il Po, utilizzare le cave per gare sportive, abbiamo già collegamenti con le società sportive perché vanno bene queste cave per gare ad esempio di canoa, maggiore attenzione naturalmente al decoro urbano, alla manutenzione delle strade, e alla sistemazione e al ripristino delle strade, ma anche dei ponti sui corsi d'acqua secondari del territorio. Per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini prevediamo degli accordi con l'azienda ospedaliera e l'azienda USL per incrementare la presenza di medici specialistici sul territorio, quindi aumentare quelle che sono le presenze in modo da favorire sia visite che esami sul territorio. Così come è molto utilizzato e molto utile il servizio di taxi sociale e sarà sicuramente ampliato e valorizzato. Il taxi sociale serve per accompagnare le visite nel capoluogo, negli ospedali, le persone anziane, oppure chi non può farsi accompagnare da un familiare e quindi è un servizio veramente molto utile che avevamo istituito quando ero sindaco, questo va assolutamente mantenuto, ma anzi ampliato il più possibile. Un altro settore da valorizzare è quello del turismo. Come rilanciare le attività turistiche nel nuovo comune e quali sono i progetti nel breve, medio e lungo termine? Il turismo e lo sviluppo del territorio sono naturalmente fondamentali. Noi li vediamo con la realizzazione della rete dei musei del Po, che accanto ai musei già esistenti vede la creazione del museo del tabacco a Pievottoville, che è una tradizione di coltivazione del tabacco e di tabacchine, il museo dell'acqua, del culatello e dei salumi, così come la costituzione del mercato delle terre del Po. Stiamo creando, questo l'abbiamo iniziato nei miei mandati precedenti, ma è poi supportata dalle associazioni, si creeranno quelli che noi chiamiamo i percorsi lungo il Po, quindi gli antichi percorsi del Po, il bosco incantato che c'è già e vi invito a venirlo a visitare, perché sembra davvero di essere in un paese surreale, il percorso delle acque, il cammino della fede e poi i percorsi guareschiani, perché non dimentichiamo che nel mondo è conosciuto Brescello come comune di Don Camillo e Peppone, perché per esigenze cinematografiche i film sono stati girati a Brescello, ma il piccolo mondo è Zibello, Polesine, Fontanelle e i personaggi che hanno ispirato Guareschi sono il parroco e il sindaco di Polesine. Vogliamo riattivare il percorso fluviale fra Polesine e Porto Polesine che si trova sulla sponda lombarda, questo consentirà di collegare le piste ciclabili lombarda con quelle emiliane e quindi di sviluppare un turismo interregionale, ma una cosa importante che crediamo sia un input per uno sviluppo generale del territorio è il fatto che è stato riaperto il percorso fluviale Locarno-Venezia, quindi Polesine è uno scalo intermedio di questo percorso. Dato che il nostro territorio è conosciuto per una ricchezza enogastronomica importante, abbiamo il salume più importante al mondo, abbiamo il permigiano-reggiano, tanti salumi, tanti ristoranti di ottimo livello, quindi incrementeremo anche le manifestazioni enogastronomiche e quindi accanto al November Pork e alla festa del Culatello altre manifestazioni importanti. Ci sono sul territorio diverse aree dismesse e anche diversi capannoni dismessi, ecco io in queste aree, in questi capannoni ci vedo un contenitore di idee, creatività e tradizioni, quindi un contenitore che deve vedere un palleventi, spazi dedicati ai giovani diplomati e laureati che possono lavorare e cominciare a progettare insieme lo sviluppo del comune, magari seguiti da professionisti importanti che possono venire una volta al mese a vedere il loro lavoro, così come spazi dedicati agli artigiani, all'agricoltura e ai norcini che insegnano ai giovani il mestiere, spazi dedicati a delle mostre, a degli hobbysti, alla cultura, alla musica. In più noi abbiamo una base Nato che è stata dismessa, anche per questa noi vediamo un riutilizzo, una riqualificazione, sono già stati presi contatti con il Ministero della Difesa per poterlo utilizzare, farla fruire a tutta la cittadinanza. Ci sono dei punti del programma che non sono già stati toccati in questa trattazione che la ritiene essenziali? Prevediamo per chi le attività commerciali e imprenditoriali che si vogliono insediare, un'agevolazione fiscale per tre anni, naturalmente devono essere attività non inquinanti e assumere personale del luogo, così come vogliamo finanziare attività a giovani disoccupati o a persone o adutti che hanno perso il lavoro a causa della crisi economica, anche attraverso finanziare attività in franchising. Abbiamo una collaborazione continua con il CONI di Parma che ci assisterà per ottenere i finanziamenti agevolati dal credito sportivo perché dobbiamo mettere mano agli impianti esistenti, ma anche costruire un polo polivalente per i nostri giovani, i nostri adulti che non c'è. Vista la grande vocazione agricola del vostro territorio, Ettore è un lettore e ci chiede se non sia il caso di far di più per l'agricoltura, cosa può essere fatto e se quanto viene fatto al momento è giusto. Guardate, non abbiamo parlato sennò adesso di agricoltura, però nel presentare alla mia squadra intanto non vi ho detto che sono rappresentati gli agricoltori con due componenti della lista, Elia Vighi, famiglia di agricoltori che si dedicherà all'agricoltura, Silvano Batchini che è Presidente della Protezione Civile ma anche il Presidente di zona della Coldiretti. Quindi l'agricoltura è un punto fondamentale, è qualificante del nostro territorio, è molto importante. L'amministrazione deve farla diventare un'amministrazione amica degli agricoltori, che sia vicino e che gli aiuti nell'esplitamento di tutte le pratiche burocratiche, anche attraverso ordinanze per facilitare quelle che sono le loro attività. Quindi nel programma elettorale c'è un punto molto ampio che riguarda l'agricoltura. Puntiamo anche a far diventare il nostro territorio un polo come il polo del Franciacorta. In poco tempo il polo del Franciacorta riguarda i vini, ma noi abbiamo un polo produttivo molto importante, abbiamo 10 produttori di curatello, di zibello, abbiamo parmigiano reggiano, abbiamo produttori di vino nel 300 e quest'area era coltivata a vigneti e uno dei primi produttori di vino del nord Italia era di Pivottoville, i parenti rossi. Quindi sicuramente gli agricoltori, la mia famiglia materna viene da agricoltori, troveranno un appoggio che forse non hanno avuto sino adesso. Puntiamo sull'agricoltura perché sono le nostre radici e dalla cultura degli agricoltori è nata la nostra cultura. Mi sento di rassicurare Ettore, il vostro lettore, lo invito a leggere il capitolo dell'agricoltura del nostro programma. Perché i cittadini dovrebbero votarla? Devono votarmi perché conosco l'affinità e le differenze, le potenzialità e i punti critici di entrambe le comunità. Avendo fatto il sindaco di Zibello per due mandati ho conosciuto anche la realtà amministrativa di Polesine. Poi la mia famiglia è metà di Polesine e metà di Zibello, mia madre è di Polesine e mio padre è di Zibello. Quindi io sono cresciuta, sono nata a Zibello ma cresciuta tra Polesine e Zibello. In questo territorio io ho le persone a cui voglio bene, la mia famiglia, i miei negozi, il mio bar, le mie amicizie. Io trovo conforto, c'è la mia chiesa, c'è la gente che amo e quindi io sento di dover fare tutto quello che posso per ogni persona di Polesine e Zibello. Ci metterò il mio impegno, le mie competenze, la mia onestà e la mia lealtà. Assicuro ai cittadini di Polesine e Zibello che se mi voteranno saranno sempre orgogliosi di avere me come sindaco, potranno sempre andare orgogliosi e poi perché è una squadra molto forte. La mia è una lista civica, realmente civica, costituita da persone che rappresentano le varie realtà della nostra comunità, c'è il presidente della Proloco, il presidente dell'Aves, il presidente di società sportiva, il presidente della protezione civile, vogliamo rappresentare la realtà e sono persone che nello studio, nel lavoro e nel volontariato hanno già dimostrato quello che è il loro valore e hanno già dimostrato l'amore per il territorio. Il nostro simbolo è un grande cuore rosso ed è il simbolo del nostro amore, della nostra passione per il territorio, è quello che noi vogliamo mettere a disposizione dei nostri cittadini. Per quanto mi riguarda i miei cittadini mi conoscono, sanno che possono contare su di me, ho una sola parola, non cambio atteggiamento in campagna elettorale, non dico cose che non posso mantenere.